La dinamica di quanto accaduto ieri pomeriggio a Latiano è ormai chiara. Il 32enne Mirko De Milito, dapprima ucciso a colpi d'accetta la madre di Giuseppina Lamarina, poi ha tentato di fare la stessa cosa con suo padre per poi recarsi all'ultimo piano dell'abitazione di famiglia in via Enrico, prende una scala per salire sul terrazzo e poi lanciarsi nel vuoto. L'allarme è stato dato dai vicini di casa, i quali hanno visto un corpo esamine sull'asfalto e hanno chiesto l'intervento del 118 dei carabinieri, i quali sono arrivati sul posto, sono entrati in casa e hanno trovato il padre di Mirko che respirava ancora e la madre, ormai priva di vita e una pozza di sangue. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi dove è persa in gravi condizioni. Sui corpi di madre e figlio, invece, il magistrato di turno ha disposto l'effettuazione dell'esame autoptico. Ma se la dinamica dell'accaduto appare ormai chiara, è tutto da ricostruire nel movente. Dalle prime testimonianze raccolte dai militari della compagnia di San Vito, pare che Mirko da qualche tempo vivesse in uno stato depressivo che lo avrebbe portato a litigare anche con un collega nell'azienda aeronautica di Brindisi in cui lavorava. Un episodio che gli era costato un periodo di sospensione. Qualche vicino di casa parla anche di dissapori con i genitori con cui Mirko condivideva l'abitazione di famiglia. Ma sono in tanti a raccontare anche una terribile sofferenza dell'omicida nel vedere soffrire a sua madre, che era tornata a casa solo da qualche giorno dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale a Francavilla. Condizioni di disagio psichico e familiare, su cui ci si ferma a riflettere solo dopo che queste tragedie avvengono e vale a poco far notare che la scia di sangue versato all'interno delle proprie famiglie è davvero lunga. Nessuno dimentica quanto accaduto a Seranova, dove nello scorso mese di marzo un 84enne uccise il fratello e la cognata. A Cisternino invece ad agosto un 36enne si è tolto la vita dopo aver ferito gravemente il padre del 71enne, mentre a San Michele Salentino a settembre un 47enne ha ucciso sua madre dopo una vita di maltrattamenti subiti proprio dalla vittima. Disaggi insomma che la nostra società ignora o che quantomeno non è in condizioni di affrontare con la dovuta determinazione, salvo poi versare qualche lacrima quando le tragedie si sono già consumate. Grazie.